Ciao a tutti che ce l'usce, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi faremo vedere la parte 2 che mostreremo la casa di Elisa e anche di mia sorella Sì, perché ve l'avevamo promesso nel video scorso, dove facevamo vedere quelle di Anna, quindi direi subito di incominciare, vai andiamo, incomincerai da casa mia, ovviamente quella moderna Ovviamente, allora, ecco, questo è il giardino, bellissimo Sì, questo è il giardino con tutti gli alberi Stupendo C'è la cuccia per il cane a volte quando viene fuori a giocare Sì E poi si scorre e c'è subito la cucina Bello Tutta già piena, con le cose Ok Poi E qui c'è una specie di ingresso dove ci si sistema le scarpe Ci si toglie il cappotto È un tipo di scappare Sì Poi si passa alla libreria Guardate Io avevo fatto una libreria di pupazzi e Elisa è una libreria di libri Libreria Vabbè Dentro questi cassetti non c'è molto, quindi Va bene Cosa c'è in questi cassetti? Non c'è niente Cioè Cioè Qua ci sono Delle Buste Sì, delle buste I negozi Poi c'è, vedi Non c'è praticamente niente Ah, ok Perché non sapevo come riempirlo Ah, io ci ho messo Vedete che non c'è niente Io ci ho messo in tutti i cassettini dei pupazzi Io Poi andiamo avanti Eh, vi dico semplicemente che è stato un inferno prendere tutti i libri e metterli nel modo corretto perché veramente Ah, io no Non si trova in giro E te non ce l'avevi i libri I libri sono difficili Non mettere Poi andiamo nel salotto Più bello Salotto Ecco Salotto gigante Con Pianoforte Pianoforte Poi c'è una lampada DV C'è Un cammino C'è L'aspiratore elettrico I divani Un tablet Dei fiori azzurri Stupendi Poi Si Va alla piscina Bella Guarda che bello il vaso Ecco Qui è dove si cucina Bello È un po' come la mia Sì perché Cioè Io ti avevo Prima avevo fatto io questa qui E ho aiutato Arianna Dandogli dei consigli Sì è vero Sì Perché io non sapevo proprio come farla E quindi Non sembrava decorare le case L'ha fatta un po' simile Cioè l'ha fatta simile alla mia Sì Poi andiamo al secondo Piano Stavo cadendo Andiamo al secondo piano Ascensore Uale Ecco qua Allora qui C'è subito Un tiragraffi Con Gattini Una casetta per gattini Sì poi Ovviamente vabbè Una specie di Posto relax Sì Poi qua c'è La camera Indipidantato Siamo del fidanzato Immaginare ovviamente Perché Vabbè Lui Lui è il fidanzato Ok E C'è anche La cagnolina Un cane Come si chiama? Si chiama Becky Ah La mia cagnolina La mia cagnolina Quella nera Si chiama Becky Quella Questa qua chiara Si chiama Grace Ok E qua c'è un armadio E qua c'è il mega bagno Sembra un hotel Stupendo Ok Qua c'è la doccia E la vasca Guardate la vasca Cioè qua potete Cioè qua si può appoggiare Bellissima Poi c'è un accappatoio Molti pupazzi Molti pupazzi Perché io amo i pupazzi In che senso Questi? Si Ah si questi Sono bellissimi Sono di colore Azzurro Rosso Verde Giallo Ed ecco questa qui E' la casa Mia La casa di Elisa E ora andiamo all'altra La casa di mia sorella La casa di mia sorella Che è questa qua Uh Ecco Allora No siamo al piano di sopra No Aspett Ecco Ecco il piano di sotto Passiamo all'entrata Non è molto decorato Perché l'ho fatta da poco Però dai insomma Ho già sistemato un po' Le cose Si Allora qui c'è l'ingresso Poi La cucina Con La sala da pranzo Si Molto elegante Poi si scorre E qua c'è La sala Ha pure vinto un trofeo Bellissimo Esatto Le casse si accendono E fanno musica E si accende la tv Nel caso Ok Va bene Andiamo Spegni anche la lampada Se no si consuma Eh si Non c'è più luce No Ok Si è andata spenta Ok E andiamo di sopra Wee Ecco di sopra Qui c'è il bagno Si Allora vedate Molto normale Molto easy Però è molto carino Si C'è tutto Quello che serve C'è tutta la corrente A disposizione Tutte le cose che servono per un bagno Che fa Si Poi Poi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Si Attivando la campanella Se volete ricevere tutte le notifiche dei nostri video E Stai per cadere Mettete un like se questo home tour vi è piaciuto E lasciate un commentino Se vi sentite liberi di esporvi E noi vi salutiamo Ciao 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 Ciao